salva un amico benvenuti a questo nuovo appuntamento siamo al parco canile comunale gestito dall'empa a monza siamo con stefania con il piccolo rocchi come è arrivato in canile quanti anni ha allora lui è un cagnolino che abbiamo qui da settimana dalla settimana scorsa un pincerino di circa nove anni e è arrivato qua insieme a una sorellina perché purtroppo il loro padrone è venuto a mancare dopo tanti anni di vita insieme e quindi l'abbiamo accolto noi diciamo la sua sorellina è già stata adottata lui ne sente un po la mancanza vero assolutamente poverino al momento si dispera un pochino infatti cerchiamo di tenerli compagni al più possibile però al momento tutti gli altri cani che abbiamo sono molto grossi e quindi non vanno bene per insieme insomma nel box possiamo dire che i cani insomma possono essere adottati anche a distanza quelli qui presenti al canile di monza come si può fare allora lui una piccola rappresentanza perché di solito di questo progetto per la parte cani fanno parte o dei nonnini o magari cani che sono qua da da tanto tempo pur essendo di buon carattere oppure si può decidere anche di adottare un gatto a distanza o al settore altri animali dove ci sono capre cavalli occhi conigli eccetera eccetera e sì questo progetto è pensato diciamo per dargli l'opportunità di a parte conoscere altra gente oltre che i volontari e di tenerli diciamo fuori dal box facendogli fare più passeggiate più passeggiate al giorno e più lunghe soprattutto in modo che patiscano meno insomma il fatto di stare in canile questo perché chi dà un'offerta diciamo mensile può anche venire a trovare assolutamente adottato a distanza di solito per i cani ce ne sono una selezione di circa 10 così almeno consigliati poi da noi ma ce n'è un po per tutti i gusti e si lascia un'offerta di 15 euro al mese per una tempistica che decide la famiglia e poi si tramite appuntamento si viene a trovare l'animale prescelto con un volontario che fa parte proprio di questo progetto e quindi spiega tutto della dell'animale tante volte ci sono anche oltre che magari persone che non possono tenerli a casa perché lavorano tante ore al giorno o altro ma anche tanti che non hanno mai avuto un animale quindi è un primo avvicinamento esatto e poi questa settimana ad esempio abbiamo avuto il lieto fine di due cani da parte di due famiglie a distanza che poi una volta conosciuti se ne sono innamorati e li hanno portati a casa sì dunque un'iniziativa che sta riscuotendo successo sì assolutamente è un'iniziativa poi che è utile sia agli animali ma anche ai volontari e anche proprio può essere una prima infarinatura anche magari con famiglie con bimbi per per insegnargli l'educazione nei confronti degli animali dunque avete tante donazioni ne chiedete altre nel senso che abbiamo tante famiglie comunque sicuramente gli animali sono sempre contenti di conoscerne altre quindi chi vuole e non può portarsi a casa un peloso quindi non può aiutarci in quella maniera può fare anche questa anche perché qui il canile è sempre pieno e quindi avete bisogno anche di queste persone che diano uno a mano assolutamente anche i nostri piccoli animali dunque questa è la storia di di rocchi chiunque può anche adottare a distanza un cane può rivolgersi appunto al canile comunale gestito dall'empa a monza per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il parco canile empa di monza al numero 039 835 623 oppure inviare un'email a canile et empamonza punto it grazie a tutti